Nel video di oggi ho pagato un mio amico youtuber per insegnarmi a diventare un pro player su StumbleGuys Questo pro player andrà a insegnarci tutti i trick per diventare più forti Ok eccoci qui Cotin, ci sei? Sei pronto? Sì ci sono Vai ok perfetto Allora ricordati, te mi devi insegnare perché davvero faccio cagare su questo, capito? Il mio obiettivo è arrivare a 30 euro Va bene Allora, io non sono bravo in questa Cotin, ok? Però conosco un trick, proverò a farlo Tu ti butti due volte così in avanti qua, dopo vai indietro e lui ti si ferma velocemente e tu riaccenderai al lato Vai sempre vicino al muro, così non ti buscino mai Yeee, quanto sono forte, i ragazzi da me sono qualificato, che bello Giro normale o superiore? Se non ti trovo una skin Cotin, ti trovo una skin? Dai dai, prova prova Vediamo Game Sì, 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 la skin del pinguino, Willy Penguin, perfetto Ok, rieccoci, abbiamo occasione per rimediare, vero? Certo Allora, vai avanti e quando arrivi qui in fondo vado e faccio così boom Oh, sono pinguinato, va bene Ok Ok, 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 ti seguo, io ti seguo Ma ci sta No, no, ti ho visto volare via Godi Ti stavo guardando e non ho più di pulsante Ok Ok, io nel frattempo faccio così schifo e non riesco a spasarci Aspetto dove sei, ok, so qua Io vado qui, faccio doppio salto qui Qui risalto E vai, io mi lancio Ok, questa mappa qua, da quel che so, è piena di trick Cotin Cotin, no, le ho presi in faccia Ok Ok, io non vado mai là perché mi trovo malissimo Sicuramente Vado sempre un po' No, no Vai, io vado tutto dentro Ti aspetto, vedi Ok, io vado tutto dentro che ci sono i miei ultimi E poi ho fatto il salto qua Facciamo, dici Qua vado sopra, faccio prima Sopra? No, io lo prendo sempre dritto nel muso Devi saltare un po' prima, se no ti lancio Quella è una cosa fastidiosa Perfetto Ok, perfetto Ora qui non fa niente perché se ti butti qui a lato A volte non ti dovrebbe prendere Non come l'ho fatto io E la va a winnare E guardate chi la va a winnare così Sì, proprio Cotin 5 Mamma mia Vai, 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 Cotin, Cotin Ok, questa mappa Ci sta Allora, il martello Ok, ok Sempre al lato Al lato perché in questo modo Le palle sempre non ci arrivano Che consigli di fare il trick? Non sempre Qualificato Vai, Cotin Si è bruciato di sotto Vabbè, comunque Ah, sì, sì Ok, ora ci siamo Così, questa è la mia mappa preferita Pico, vieni qua Io ti consiglio sempre di andare i lati In modo tale che hai più spazio In ogni caso che so scappare, no? Quanti ritrovi con la centrale Ti può salti così Guarda Fai doppio salti In modo tale che Stai più tempo in aria E Non dubito blocchi quello di sotto Mi so, ancora il palo di sopra, eh Oh Non lo so No Sono caduto nel lupo Ho presi tutti Guarda, quando arrivi a quel punto Salta 1v1 Salta 1v1 Eh, niente Mi muoio così No, no, no No, Cotin Oh, però Ho vinto contro un bro player, ragazzi Ho vinto Ho vinto Accetto la sfida, Cotin Accetto la sfida Questa parte non la metterò nel video Perché hai fatto una caduta Rovinosa No, ti prego Eh, no Perché sta cosa sta a basso Non riesco a salire Se lo giuro che non riesco a salire Vai, ok Siamo qua Siamo qua Cotin Io sono quasi qualificato, eh Non vorrei dire Prego, non la mettere questa parte C'è un pompiere qui che è un po' grullo Vieni qua Ah, c'è qui Ok No, vai Faccio il trick Io lo provo, eh Vai La traio Ci Vai, Gigi Gigi Vai, c'ho fatto Oh, io Cotin, Cotin In che squadra sei? Io sono arancione No, io blu Io blu Io blu Cotin Questa cosa non va bene Penso anch'io Sì Cotin Gado Io no Io sì Io no Ora ve la riprende No, riprendercela è impossibile Oddio, invece sì Eh, guarda Allora, non parliare Attenzione Non poterci su tre Dai, dai 3 2 1 Sì E si win Cotin Scusate il principiante Sono tutti i botti Qui dai Ma che porterà il principiante Sì, ma Ok Il laser Il laser Qui ha bisogno davvero di molti consigli Cotin Sì Qua bisogna davvero di molti consigli Oddio 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 1v1 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 Ok, ok, Stumbleguy Stumbleguy sta per morire, me lo sento Me lo sento, invece sta per morire leute Lo so, lo so, dai, Stumble Sì, ho vinto E Cotin, è la Easy win Easy win, ok, perfetto 29 vittorie, bisogna arrivare a 30 Devo arrivare alla trentesima Ok, Cotin, mappa dei rulli Probabilmente, a mio parere, non c'è Ma secondo me è la mappa con il finale Più antipatico, diciamo così Ma sì Ok, poi poi ti voglio insegnare Forse, poi ti voglio insegnarti Io un trick in questa mappa Che non so se sai Ok, povero, ho visto su TikTok Però questi sono dettagli Comunque siamo cose arrivati Allora, vieni qua da me Devi fare questo Eh? Ok, che ho fatto, eccolo fatto Grande, mamma mia, mi sento capione Oh, io so qualificato, eh Ok, Cotin Allora, questo mappa Il trick ho fatto prima Vai, 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 mi ricordo No, no, mi ricordo come ho fatto Quindi Ok, palla Ok, palla Ok, ho visto Cotin Flippare con Ok, 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 ci sono anche te Ok, cotin Finale Laser Vai, vai Tranquillo, eh Inizio Tranquillo Quindi Ma te ha una domanda Hai le morte del pugno E calcio, eccetera No, perché non ho ancora il pass Vorrei prenderlo Però no Con il pc Perché sai Non ci sono i giri gratuiti Quindi Questo qui Dovranno fare molti giocatori Ecco Ok La fine 3-7 Ci la possiamo fare Ci la possiamo fare Ci la possiamo fare Vero? Che ce la faremo Dove, dovremmo fare 30 win 30 win Va bene Obiettivo Va bene Ah, immaginati che Rimaniamo in due Probabile Probabile Che faci Darci la win Ti metti in dura prova Mettimi in dura prova Mettimi in dura prova Ok 1-1 Cotin 1-1 LOL Dura prova Dura prova Ah, difficile Non ci capisco niente Sto andando per Come si chiama Quella che la chiama Grexone Ok Cotin Bravo Odio di dirli Non capisco niente Cotin di giuro Sto saltando Nel numero posto E che vedo un po' di grigio Un consiglio Non lo so Non mi sembra Che 30 win Per noi Cotin 30 win 30 win Vabbò dai ragazzi Il video può terminare qua Se vi è giocato in caso Fosse così Vi ricordo Iscrivetevi al canale Lasciate like E detto che I suoi coti Vi salutiamo Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Ciao